Il Comune di Teramo bandisce uno dei concorsi più grandi del centro Italia. Saranno assunti 10 tra educatori e educatrici per favorire la progressiva gestione interamente pubblica dei sei micronidi della città. Le ultime assunzioni nel settore risalgono agli anni 80. Ad oggi l'amministrazione comunale di Teramo gestisce direttamente tre di queste strutture e le più importanti. Il nido di Via Diaz, quello di San Nicolò e da qualche tempo anche il nido Pinocchio alla Gammarana da sempre fiore all'occhiello del sistema educativo cittadino rivolto ai bambini da 0 a 6 anni. Siamo stati i primi da 40 anni a questa parte a mettere in campo un concorso, anzi un maxi concorso per l'assunzione di educatrici perché abbiamo denunciato sin da subito che era la carenza organica la problematica più importante da dover affrontare. Oggi diamo concretezza a quella programmazione, quel concorso è in via di conclusione. Nelle prossime settimane uscirà la graduatoria definitiva, attingeremo il personale, faremo le valutazioni del caso. Contestualmente abbiamo promosso una rete e la costituzione di un coordinamento cittadino. Siamo arrivati alla sottoscrizione da parte di tutti gli enti privati dello stesso percorso pedagogico delle strutture pubbliche e quindi come giustamente ricordava il sindaco andiamo verso la pubblicizzazione del privato e quindi una rete integrata che ci consentirà di innalzare la qualità e di coinvolgere sempre più famiglie. Tra gli obiettivi più immediati dell'amministrazione comunale di Teramo c'è quello di dare uniformità didattica a tutti e sei i nidi della città, anche a quelli che per il momento restano a gestione privata. È prevista infatti una convenzione con il Comune che stabilirà uguali parametri per ogni scuola. Si ritorna dunque alla gestione diretta? Si sta attuando il piano che abbiamo programmato con grande chiarezza e grazie ad una pianificazione che ci consente appunto di riassumere educatrici e educatori attraverso il concorso di fatto torna un nido nella gestione pubblica diretta, il nido Pinocchio, il nido Anna Ferrante e questo è un grandissimo risultato. C'è un'inversione di tendenze importante e Teramo diventa un modello, un laboratorio per tutti gli altri comuni, per i nidi ma io direi per lo 06 grazie al lavoro che è stato fatto nel corso di questi anni e come ho detto qualche tempo fa quando è stato avviato questo piano, noi non stiamo privatizzando nulla, tutt'altro, stiamo pubblicizzando tutti i nidi, anche i nidi privati attraverso una convenzione appunto che consente di innalzare lo standard di qualità sulla base della gestione pubblica.